Un duello a distanza, a volte combattuto anche per procura. Quel che è certo è che tra De Luca e De Magistris sono rari i momenti di tregua. Ospite ieri dell'archivio di Stato di Salerno per un'iniziativa su salute e ambiente, il sindaco di Napoli è stato accolto da uno striscione dei giovani del PD che non lasciava spazio ad interpretazioni. Sei il peggior sindaco d'Italia, l'accusa De Ma, mosso dai sodali deluchiani. E la replica della fascia tricolore partenope non si è fatta attendere. Se vengo qua e De Luca mi lancia il messaggio che non sono gradito vuol dire che stiamo facendo la strada buona, quella corretta, quella giusta, quella del cambiamento. Per me è un grande motivo di onore, lo ringrazio di questa accoglienza, ma so che a Salerno c'è tanta gente che la pensa come me. Sicuramente noi siamo alternativi sotto ogni punto di vista a De Luca. De Magistris ha poi parlato di Bagnoli con la bonifica che ora deve solo essere avviata, visto che le risorse ci sono. Ma vedete il tradimento del governo sull'Ilva. Noi non possiamo ancora vivere nel 2019 nel conflitto tra due diritti costituzionali, diritto al lavoro e diritto alla salute. Bisogna scegliere. A Bagnoli abbiamo scelto una strada appunto della riqualificazione, la bonifica integrale, rimozione della colmata e ricostruzione rispetto all'ambiente. A Napoli questa scelta è stata fatta dall'acqua ai rifiuti, è un fatto politico. Ma di Bagnoli ha parlato ieri anche l'ex premier Matteo Renzi durante un incontro ad Ercolano con il sindaco Ciro Bonaiuto. Il ministro Lezzi è palesamente inadeguato, mentre il commissario Floro Flores è incapace. Bordate che l'attuale senatore del PD ha indirizzato alle scelte del governo che di fatto hanno bloccato la bonifica nonostante il grande lavoro, ha aggiunto Renzi, svolto dal precedente commissario Anastasi.